Buongiorno e benedetto sia il nome del Signore. Stiamo trasmettendo alcuni messaggi importantissimi per voi che ascoltate dall'Irlanda del Nord insieme a dottor Sexy Stewart che oggi ha ricevuto un messaggio particolare dal quartier generale. Sono il pastore Romolo Giovanardi della chiesa Fonte di Vita di Modena, sono anche il direttore delle operazioni internazionali della CCN e sono qua per fare un servizio traducendo nella nostra lingua ciò che il Signore sta dicendo al dottor Stewart. Vi prego di aprire i vostri cuori, aprite i vostri cuori, permettete alla parola di Dio di entrare dentro di voi, di cambiare le vostre vite come ha cambiato la nostra e sono certo che se ascolterete con attenzione svuotandovi di ogni pensiero potrete veramente dire oggi è il giorno fatto dal Signore, voglio essere lieto in questo giorno. Ascoltate con attenzione, aprite i cuori e che il Signore vi benedica. Oggi voglio portarvi un tema nuovo con un titolo importante, la potenza che cresce. Molte persone pensano di non avere nessuna potenza per poter cambiare le circostanze avverse che incontrano. Alcuni pensano di non avere nessuna possibilità di avere una finanza migliore nella vita. Pensano di non avere potenza per poter risolvere i problemi nella famiglia e nelle comunità. ma io credo onestamente che se tu ascolterai questo messaggio sarai aiutato perché c'è una potenza che può crescere dentro di te. Dio Onipotente vuole dare potenza alla tua vita ma tu devi sapere come poter liberare questa potenza nella tua vita. In Isaia 40,29 dice che il Signore dà potenza agli stanchi e aumenta la forza agli spossati e dice anche in quella stessa porzione che coloro che stanno col Signore avranno le loro forze rinnovate. saliranno al cielo e voleranno come le acuile. Correranno e non si stancheranno. Cammineranno e non cadranno. Naturalmente la chiave è rimanere col Signore. Rimanere col Signore significa passare del tempo con Lui. non necessariamente solamente nella vostra stanza di preghiera o sulle ginocchia ma sviluppare una tale importante relazione con Lui da parlargli addirittura mentre vai fuori, mentre sei in macchina, mentre fai spesa parlare sempre con Lui. aprire il tuo cuore al Signore mentre sei in casa, ovunque tu ti possa trovare. Bere alla Sua presenza rendendosi conto che Dio è per te che Dio è in te, con te che vuole mettere potenza dentro di te affinché tu possa poi portare avanti la Sua volontà giorno dopo giorno. E questa è la chiamata che ogni credente ha. Ebrei, 13, versetto 6, mi piace molto quello che dice. Noi possiamo dire con tranquillità, con fierezza il Signore è il mio aiuto. Il Signore è il mio aiuto. Voglio darvi un piccolo insegnamento su questi versetti. e nonostante io vi possa dare solamente una parte dei versetti, vi incoraggio poi a leggerli totalmente più avanti. Noi dobbiamo dire con chiarezza e con fierezza, il Signore è colui che mi aiuta. La mia potenza viene dal Signore. E facendo così noi possiamo creare un'atmosfera dove noi possiamo ricevere la potenza del Signore. Mia moglie per tanti anni aveva l'abitudine di ascoltare musiche nella cucina. Perciò quando io arrivavo a casa dal lavoro in casa mia c'era un'atmosfera meravigliosa di musiche e di adorazione. E noi possiamo creare noi stessi un ambiente che ci renda facile ricevere dal Signore. sensibilizzandoci alla voce dello Spirito Santo. Ecco quello che io credo sia rimanere col Signore. E il versetto che vi ho menzionato in Isaia 40,29 usa l'aquila come un esempio di colei che sale verso l'alto. E promette una cosa molto potente. Coloro che rimangono nel Signore saliranno in alto come un'aquila. Mi ricordo tanti anni fa quando eravamo a Nairobi ho visto tante aquile girare. Ma vedete le aquile sono un uccello molto interessante. Prima di tutto hanno l'abilità di salire oltre gli uragani, oltre le tempeste. Perciò quando noi stiamo col Signore noi mettiamo su le ali come le aquile. Ed abbiamo la potenza di andare oltre le tragedie della vita. Potenza di poter sopportare circostanze difficilmente da sopportare altrimenti. potenza di superare gli ostacoli per arrivare all'obiettivo. Noi abbiamo questa potenza dentro di noi. L'aquila è molto interessante per me perché l'aquila ha l'abilità di rinnovarsi. ci sono momenti in cui noi siamo veramente stanchi. Lo scoraggiamento vuole vincerci. I problemi della vita forse le finanze che non sono sufficienti la mancanza di lavoro i costi che aumentano le nostre case che perdono di valore ci preoccupiamo perché non riusciamo a pagare i debiti che abbiamo. tutti questi problemi se noi li manteniamo vivi ci tolgono ogni forza. Perciò noi dobbiamo comprendere ora come possiamo avere una potenza che entra dentro di noi e cresce. e coloro che stanno col Signore saliranno come le aquile. Quella potenza illimitata che il Signore Onipotente ci può dare. Mi piace la parola rinnovare perché vuol dire che se noi ci sentiamo distrutti e non riusciamo ad andare avanti possiamo stare col Signore chiamare il Signore ed essere rinnovati come un'aquila. l'aquila arriva a una crisi di mezza età e deve mettersi da parte e rinnovarsi. Una cosa che succede quando un'aquila deve essere rinnovata deve gettare via tutto quanti i pesi che ha avuto su di sé mentre volava in tutti gli anni. Toglie le penne morte toglie il peso, toglie molto peso da sé e noi dobbiamo toglierci tutte quante le preoccupazioni della vita che ci appesantistono. Perciò ci vuole un po' di tempo per toglierci i pesi. Perciò dopo questo tempo necessario l'aquila sarà rinnovata perché tutti i pesi vecchi saranno scrollati e poi sarà di nuovo capace di alzarsi in volo e andare ancora più alto di prima perché lei ha tolto tutto quello che era non necessario e ha passato del tempo per essere rinnovata. Noi dobbiamo toglierci da dosso tutte le voci che sono negative su di noi radio, televisione o persone. Dobbiamo cominciare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo perché questo ci innalzerà e noi sappiamo che Dio è per noi e mentre noi camminiamo con Lui non possiamo essere vinti perché noi siamo più che conquistatori. in 2 Pietro 1, versetto 3 ci dice la Bibbia a noi è stato dato tutto ciò che è la vita e la santità. A noi è stato dato tutto il necessario promesse incredibili, grazia incredibile che ci rendono capaci di ricevere la natura divina. Perciò leggete quel capitolo attentamente 2 Pietro 1 perché ci fa andare avanti in un posto più grande di benedizione affinché noi possiamo poi essere una benedizione non solo per noi stessi ma anche per gli altri. C'è una potenza grande che aspetta di poter entrare nella nostra vita. ma noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla parola di Dio. Abbiate una visione sullo scopo che Dio ha per voi. Un'altra cosa importante dell'Aquila è questa. L'Aquila ha una visione molto acuta. può vedere molto al di là di quello che gli altri uccelli riescono a vedere. Perciò tu e Dio mentre stiamo col Signore meditiamo la Sua parola passando tempo con Lui impariamo come risolvere i problemi della vita cominciamo a vedere come superare questi problemi che abbiamo e cominciamo a avere una visione nuova per come essere benedizioni per la nostra generazione. mi ricordo mentre ero in Romania e stavamo guidando avevamo appena finito una riunione ed una delle nostre rappresentanti ci aveva portato all'aeroporto. dovevamo andare molto velocemente perché eravamo un po' in ritardo per prendere il nostro volo per l'Inghilterra. E mentre andavamo i miei occhi si posarono sulla lancetta della benzina che segnava quasi zero. vedete quando viene questa luce rossa vuol dire che non abbiamo più benzina molte volte la luce rossa si accende in noi per farci capire che la nostra benzina sta finendo. Ma l'autista non aveva tempo per fermarsi e io avevo paura che lui finisse la benzina e ci fermassimo. perciò molte persone camminano sul rosso permettono al loro livello di fede di abbassarsi non vogliono più avere una comunione vera con gli altri credenti tolgono ogni energia spirituale e se tu continui a viaggiare in queste condizioni senza fare di nuovo senza riempire di nuovo il serbatoio tu finirai la benzina e ti fermerai. perciò noi abbiamo bisogno così tanto dobbiamo tenere il livello della benzina alto e dobbiamo fare rifornimento rimanendo in comunione col Signore rimanendo con Lui mangiando della Sua parola e metterci in connessione tutti i giorni con la spina della potenza che si chiama Gesù Cristo. In Luca capitolo 44-49 fu detto ai seguaci di Gesù di fermarsi finché la potenza dall'alto non scendesse su di loro. Gesù stesso disse a loro fermatevi finché voi non sarete riempiti di potenza dall'alto. Lui aveva predetto che ci sarebbe stato comunque una potenza che sarebbe venuta dall'alto. Perciò fermati finché non ricevi potenza. Perciò dobbiamo comprendere questo. Io mi ricordo quando ero un ragazzo di circa dieci anni andavo alle riunioni di preghiera in bicicletta e in quei giorni quando veniva buio dipendevi solamente dal piccolo fanale che avevi sulla bicicletta e naturalmente lo sapete era rifornita da una dinamo che sfregava contro la ruota della bicicletta dando potenza. E fino a che ti muovevi avevi luce. Ma quando ti fermavi la dinamo si fermava e la luce si spegneva. E questo succede a noi quando noi ci fermiamo di camminare col Signore. Noi non abbiamo luce. Lui è la grande dinamo del cielo che ci riempie di potenza e ci rende capaci di superare ogni sfida. Non dobbiamo comunque aspettare ancora come se lo Spirito Santo non fosse ancora arrivato. perché lo Spirito Santo è già arrivato. Ma noi dobbiamo fermarci preparare il nostro cuore per riceverlo. Non dobbiamo stare col Signore ed essere riforniti. Isaia 44 versetti dal 3 al 7 dice ancora e questa è una promessa per te io manderò acqua a colui che ha sete e manderò tanta acqua sul terreno secco. Io manderò il mio Spirito sui tuoi discendenti e la mia benedizione sui figli dei tuoi figli. Noi sappiamo che Dio vuole darci, inondarci. Lui vuole inondarci della Sua potenza. La potenza dell'unzione dello Spirito Santo. La potenza della Sua saggezza. la potenza della Sua presenza. E affinché questo fiume ci riempia anche se viviamo un momento di grande deserto l'unica richiesta è l'unica richiesta affinché abbiamo quest'acqua e che noi abbiamo sete. dovremmo avere più sete di Dio della Sua parola di quanto abbiamo per il nostro cibo naturale. E poi un'altra promessa meravigliosa io metterò il mio Spirito sui vostri discendenti e benedizioni sui vostri figli. cosa è più grande di questo? Che non sei solo tu ad essere benedetto ma mentre tu stai con Lui e l'onori e non preghi solamente per te ma per tanti altri anche per noi in questo ministero preghi per la tua comunità preghi per la tua famiglia allargata noi siamo persone che devono intercedere e allo stesso momento dobbiamo bere della Sua presenza allora ci saranno veramente sorgenti d'acqua viva e tu sarai grandemente benedetto perciò ricorda le promesse fatte a te se noi ci prendiamo il tempo per bere e non andare via a vuoti ma essere riforniti ogni giorno. Salmo 45 versetto 1 dice Davide il mio cuore è soprafatto dalla gioia la mia lingua è quella di uno scriba veloce non sono solamente felici per le benedizioni del Signore dice ma io sono pronto a mettere la mia penna i miei fogli per condividerlo con gli altri questa è la chiave per essere più benedetti dare agli altri ciò che tu hai ricevuto condividi la buona novella con gli altri proclama parole di incoraggiamento e di fede agli altri perché tu hai buone notizie se sei in relazione con Gesù Cristo e se tu non sei in relazione con Lui puoi cominciare ad avere una relazione oggi perché Gesù è ancora colui che dà la vita lui è l'unico salvatore e l'unico mediatore perciò non parlare solo di Gesù ricevilo come salvatore Signore e sii sicuro è certo che ricevendo Gesù sei nato di nuovo perché coloro che non sono nati di nuovo non vedranno il Regno di Dio perciò sii come Davide che il tuo cuore sia veramente sovrabbondante di pensieri buoni pensa cose che ti edificano spegni le voci che ti vogliono buttare per terra e ti vogliono deludere noi abbiamo la cosa più grande di tutti i tempi poi dice in Romani 5.5 l'amore di Dio è stato messo nel nostro cuore attraverso lo Spirito Santo perciò noi dobbiamo dire grazie Signore per avermi messo il tuo amore nel cuore perché il suo amore è già venuto dentro il nostro cuore appena noi siamo nati di nuovo e iniziamo una relazione con Cristo Gesù abbiamo qualcosa di buono da condividere noi dobbiamo renderci conto che Dio si muove in tutto il mondo oggi io ho sentito che ci sono 40 milioni di credenti in Brasile molti vengono al Signore ogni giorno in tutto il mondo perciò ampliamo la nostra visione c'è una potenza che sta scendendo dal cielo siate pronti ora se tu non hai ancora accettato il Signore di questa preghiera dopo di me alzati in piedi e dico a me Signore Gesù mi pento dei miei peccati io credo che tu sei morto sulla croce e sei risorto e con gioia ricevo la tua vita eterna per fede e ti ringrazio perché mi hai salvato ora nel nome di Gesù benedico la tua casa benedico la tua famiglia io proclamo guarigione sul tuo corpo malato prendi le risposte di cui hai bisogno e tu comincerai a sperimentare una nuova potenza dentro di te nel nome di Cristo Gesù mettiti in contatto con noi se vuoi ti manderemo copie di ciò che abbiamo disponibile di quello che abbiamo disponibile e lo potrai poi condividere con altri e se vorrai aiutarci potrai farlo se lo sentirai perché noi possiamo continuare a portare avanti questo programma che Dio ti benedica amén amén sono certo che ciò che avete sentito non lo dimenticherete il Signore ha parlato il Signore vi ha dato sicuramente le risposte che stavate aspettando come le ha date a noi e ce le da tutti i giorni passiamo del tempo col Signore meditiamo il messaggio che abbiamo sentito e la nostra vita cambierà ogni oggi della nostra vita perché il nostro Signore è il Signore di oggi volevo darvi alcuni consigli su alcuni libri che il Dottor Stuart ha scritto sono libri che hanno cambiato la vita di tante persone il primo è vivere dove si ha il diritto di vivere è un libro molto importante perché noi non conosciamo i diritti che abbiamo col Signore questo ce li spiega il secondo è vorresti dire che è impossibile è la biografia di Stacy Stuart e possiamo dire che tutto ciò che è successo a lui tutte le meraviglie che sono successe a lui possono succedere anche a noi in momenti di gravi difficoltà come lui stesso ha affrontato poi abbiamo un altro libro Leadership che dà vita noi siamo leader di noi stessi possiamo scegliere di dare vita o di non darla ma la daremo solamente se saremo guidati nella nostra leadership da colui che è il leader dei leader che si chiama Gesù Cristo ci sono tanti altri libretti fede salvezza accelerare vivere in un ambiente di vita piacevole che Uomini Nuovi ha stampato e tutti questi libri possono essere richiesti e Uomini Nuovi 0332723007 ci sono anche tanti CD cantati dai gruppi più importanti più unti dell'Uganda e sono canzoni che sicuramente vi daranno grande gioia cantandole nelle vostre comunità e ascoltandoli mentre siete in caso in macchina sono in inglese ma sono disponibili anche tutte le traduzioni se solo le chiedete il Signore vi benedica e vi dia una giornata indimenticabile in inglese Grazie a tutti.